Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di una proposta di Murder Party che potrete tranquillamente organizzare con i vostri amici. Potremo farlo in presenza quando sarà di nuovo possibile, come abbiamo fatto noi sarà tranquillamente organizzabile tramite webcam. Si tratta precisamente di Mystery, il gioco delitto, una serie di murder party appunto dai 6 ai 14 giocatori con una durata di circa 3 ore e 3 ore e mezza a seconda del vostro ritmo partita. Precisamente noi abbiamo giocato all'omicidio al St. Regis Hotel e adesso ve ne parlo subito. Innanzitutto dovrete selezionare la vostra avventura e questo potrà essere fatto anche attraverso il grado di difficoltà, di macabro e di tabù che vorrete avere nella vostra avventura a seconda della sensibilità del vostro gruppo o di come siete preparati appunto da questo genere di avventure e poi dovrete selezionare il numero di partecipanti. Precisamente noi abbiamo giocato all'omicidio al St. Regis che va dai 6 ai 10 partecipanti e abbiamo giocato con 8 attori. Una volta fatto vi verranno consegnati tutti i file per giocare correttamente al vostro misteri, ovvero sia le istruzioni per l'ospite, per il padrone di casa diciamo così, che spiegherà come è fatta la vostra storia, come è la struttura dei file, come distribuire i vari ruoli, come distribuire anche le informazioni, come spiegare, eventualmente come travestirsi per immedesimarsi di più nell'avventura e come gestire i vari tempi tra prologo, atto primo, atto secondo, atto terzo e poi sipario, dove effettivamente ci sarà la deduzione da parte di tutti i partecipanti all'avventura, attori e non attori. Avremo poi una guida al mistero, ovvero sia ci spiegherà più nel dettaglio l'ambientazione, ci dirà che cosa preparare prima di iniziare l'avventura, come predisporre fondamentalmente l'ambiente ma anche alcuni piccoli materiali e poi c'è un brevissimo elenco di personaggi con la complessità di gioco. Alcuni personaggi saranno un po' più, diciamo, decisivi per il gioco, sono un po' più personaggi chiave, altri saranno un po' personaggi più marginali o comunque con delle caratteristiche con meno segreti che renderanno più facile la cosa, questo in base anche alle caratteristiche di ciascuno degli attori che avrete selezionato. A quel punto poi avrete anche materiali addizionali, come ad esempio le targhette, se giocate di presenza potrete metterle sull'abito, come nel nostro caso nelle webcam, semplicemente potrete scrivere il nome in sovraimpressione quando parteciperete alla video riunione. Dopodiché a ogni personaggio, a ogni attore scusate, viene consegnato uno di questi file in cui vi verrà spiegato il vostro ruolo, quindi qual è tutta la vostra storia, dove siete nati, chi conoscete, quali sono i vostri segreti, quindi un qualcosa che sapete solamente voi e non è detto che dovrà uscire nella serata, magari ci saranno delle voci, qualcuno dirà qualcosa di collegato, ma voi dovrete essere pronti a difendere il vostro segreto, quindi un qualcosa che dovete sapere solo voi e poi tutto quello che dovrete fare all'interno di prologo, atto primo, atto secondo, come vedete ci sono degli alibi che potrete esporre, una versione nascosta che dovrete tenere segreta, quindi il vostro alibi funziona, ma state attenti perché qualcosa d'altro avete fatto, quindi qualcuno potrebbe avervi visto, sentito o smentirvi su quello che direte, quello che dovete assolutamente far uscire nell'atto 2, atto 3, eventualmente anche oggetti che farete capitare in scena in alcuni casi, in questo caso il personaggio avrà un ritaglio di giornale che dovrà buttare lì, tirar fuori per avvalorare una propria tesi. Quando tutti sono pronti semplicemente si inizia a giocare, come vi ho fatto vedere si scandisce il tempo dei tre atti e quando tutti hanno recitato i tre atti, facendo un dialogo abbastanza coinvolgente diciamo, sarà tutto un botte risposta perché le indicazioni sono molto precise, quindi vi diranno che cosa dire e di conseguenza qualcun altro avrà una specie di trigger, di innesco per rispondere con un proprio segreto, con una propria domanda, una propria accusa, si arriverà tranquillamente al nostro sipario, a quel punto ciascuno dovrà decidere chi è stato l'omicida, come ha fatto e il perché. Innanzitutto per spiegarvi un po' la complessità del gioco, perché immagino che qualcuno di voi potrebbe essere spaventato dal dover recitare, vi spiego come ci siamo organizzati noi. Allora innanzitutto abbiamo definito i ruoli, in questo caso abbiamo deciso di estrarli a sentimento, diciamo, ognuno ha selezionato solamente dall'elenco nomi quello che avrebbe preferito impersonare, senza parlare di complessità, in modo tale che fosse una scelta totalmente libera. Dopodiché abbiamo deciso che io fossi un po' il conoscitore onnisciente di tutto, come se fossi un po' il master della partita. Questo perché eravamo tutti alla prima esperienza, me compreso, e ovviamente il fatto che bisognasse risolvere un delitto ci ha fatto pensare che se qualcuno si fosse dimenticato, anche in buona fede, di dire una determinata cosa o di intervenire in un determinato momento, avremmo potuto non risolvere il caso. Tanto più che c'erano anche materiali da preparare addizionali, avete visto dei ritagli di giornale, ci sono stati poi dei bigliettini, alcuni file audio, quindi c'è anche del multimediale. Quindi per gestire un po' tutta la cosa tramite webcam abbiamo deciso che io sarei stato il lettore onnisciente. Non ho letto la soluzione, vi viene fornita anche la soluzione del caso, quindi ho deciso di leggere bene o male a grandi linee le cose dei vari personaggi e mi sono preparato, quella che vi faccio vedere qua, essere una vera e propria mappa concettuale del caso, ovvero sia come erano le relazioni fra i vari personaggi e le cose fondamentali da dire nei vari atti, in modo tale che io man mano spuntavo quello che dicevano i vari ragazzi, che sono stati bravissimi, ci tengo a sottolinearlo, perché è stato molto naturale, diciamo abbiamo tenuto un ritmo abbastanza blando di parlate, in modo tale che fosse un dialogo molto ragionato, molto riflessivo, senza particolari accelerate o frenate, tutto con un buon ritmo. Quindi man mano che loro parlavano io mi segnavo se le cose principali che dovevano essere dette nei vari atti erano dette e a quel punto naturalmente chiudevamo l'atto, ci facevamo un attimo di pausa e passavamo all'atto 2. Una volta per fare questo, come abbiamo fatto, ci siamo distribuiti circa 20 giorni prima i vari ruoli, quindi a ognuno ho mandato il pdf, ovviamente segreto rispetto agli altri, quindi abbiamo utilizzato una chat telegram privata e una chat di gruppo. Dopodiché io ho preparato i vari materiali come immagini, mi sono salvato le immagini direttamente su desktop. A quel punto, nel corso dell'avventura, quando uno di loro diceva adesso vi farei vedere questo bigliettino, ad esempio io non facevo altro che condividere lo schermo, qua vedete i nostri attori che appunto hanno deciso anche in qualche modo di vestirsi, per dare un po' un tono ai propri personaggi, anche perché avevamo dei personaggi femminili, quindi qualcuno si è dovuto mettere delle parrucche, io facevo vedere in sovraimpressione per tutti le cose, quindi vedete avevamo un testamento, avevamo una fotografia e io mi sono vestito così, diciamo che il mio ruolo, mi sono creato il ruolo di concierge dell'albergo, in poche parole, che quindi ho dato il benvenuto alle persone, le ho fatte presentare agli altri ospiti e un po' fornivo le informazioni, se qualche svistina diciamo succedeva, potevo intervenire io dicendo mi scusi ma ieri sera non si ricorda questa cosa in modo tale che tutto potesse fluire, diciamo, ma stavo molto ai margini, hanno giocato direttamente loro, quindi vi dicevo, una ventina di giorni prima si dà questi file, ognuno si li prepara, stiamo parlando di tre pagine, quattro pagine scritte, ma veramente molto bene, in maniera molto schematica come avete visto, quindi nessuno avrà problemi a studiarsene, bisogna solamente leggersene e tutti si sono fatti un pezzettino di carta con due appunti per ricordare e poi si parte serenamente. Parliamo quindi delle sensazioni di questa partita, allora innanzitutto loro sono tutti i miei tippers, quindi già persone che hanno voluto darmi credito fornendomi il loro supporto preziosissimo e mi hanno dato credito appunto nel seguirmi in questa pazzia, quindi ci siamo messi tutti insieme, abbiamo sofferto tutti insieme ma ci siamo proprio stradivertiti, addirittura ci siamo talmente immedesimati che abbiamo iniziato a chiamarci proprio con quei nomi anche nella ricostruzione dopo, quindi siamo rimasti comunque all'interno dei personaggi e quasi ci è mancato un po' il pubblico, abbiamo deciso di ripensarlo magari più avanti se qualcuno vorrà aggiungersi appunto rilancieremo la cosa, ma sicuramente noi vorremmo riprovare un'altra esperienza di questo tipo. Come vi dicevo tutto molto naturale ma soprattutto molto intrigante il discorso dell'assassino, assassino lo intendo come personaggio generico, perché non solo ha dovuto o hanno dovuto, diciamo non voglio darvi spoiler di nessun tipo, mentire durante l'avventura stessa, avevano delle parti in cui dovevano dire delle cose diverse dalla realtà, ma hanno continuato a tenere il personaggio anche nella ricostruzione dei fatti, quando cercavamo di tirare un po' le fila, di capire che cosa fosse successo come mistero, quindi hanno provato a depistare, hanno buttato nuovamente false tracce, hanno puntato il dito contro qualcun altro cercando di convincere gli altri e alla fine poi tutta la nostra deduzione comunque è andata a buon fine. Siamo riusciti a risolvere il caso, vi dico è complesso perché ci sono tanti segreti come avete visto che però in qualche modo un pochino saltano fuori, un po' vengono smontati, ci sono tante fila e tanti piccoli dettagli che devono essere incastrati tutti insieme. Prendete bene gli appunti, riguardate soprattutto benissimo i materiali, i ritagli di giornale, tutto quello che è scritto perché anche una minima cosa perché è lì? Se questo biglietto l'ha scritto questa persona perché ha scritto così? Allora potrebbe essere un'altra, quindi tutto deve tornare, è tutto molto logico e vi dico noi siamo arrivati tranquillamente alla soluzione completa del nostro caso. In ogni caso vi tranquillizzo dicendovi che ci sono anche tre indizi da buttarli nel corso della ricostruzione nel caso le indagini si stessero impantanando ma soprattutto avete anche la possibilità di leggere interamente la soluzione. Noi l'abbiamo fatto dopo aver fissato che quella era la soluzione del nostro caso per verificare se fosse vero ma nulla impedisce di iniziare a leggere e provare ad andare avanti da soli. In questo quindi vi consiglio sicuramente di fare una prova a questo mister, organizzatevi bene, decidete, ricordatevi il numero delle persone prima di acquistare l'avventura e a quel punto organizzatevi una serata. Avete visto funziona benissimo da webcam, basta solo che tutti abbiano una connessione decente e riuscite a sentirvi tutti, utilizzate l'alza la mano per prendere la parola e anche se non siete capaci, diciamo non avete mai provato come nel nostro caso, sappiate che riuscirà bene, i materiali davvero sono ben fatti. Faccio i complimenti alla preparazione di questa cosa. Direi che ho finito, vi saluto con un ciao e alla prossima! Direi quindi che vi ho detto tutto, grazie per essere arrivati fino a qua, come sempre lasciatemi un pollice su, un pollice giù o un commento, ricordatevi di iscrivervi al canale e ai miei social per rimanere aggiornati su tutto e se volete sostenermi per far crescere sempre di più il canale, qua sotto trovate un paio di idee. Direi che vi dico un ciao ne!